A seguito dello screening a tappeto effettuato dall'Asle di Teramo nei giorni scorsi all'interno del centro di accoglienza per straniere a Campli sono emersi oltre 20 casi di positività al Covid tra gli ospiti. Un focolaio che è stato immediatamente circoscritto e la cui situazione è costantemente monitorata. Gli ospiti positivi stanno tutti bene e in giornata verranno ripetuti i tamponi in modo da avere un quadro più dettagliato della vicenda. Sì, questo è il dato di oggi, oltre 20 immigrati che sono risultati positivi al Covid e abbiamo chiesto al centro di accoglienza di avere una sorveglianza H24 in questi giorni e abbiamo intensificato i controlli con la nostra polizia municipale, il supporto è stato chiesto anche al comando dei carabinieri. Quindi mi auguro che questa emergenza sanitaria all'interno del centro rimanga circoscritta, che possa essere gestita con la massima attenzione e che possiamo nei giorni prossimi già uscire da questo momento particolare che insomma sicuramente avremmo evitato ma che fa parte della realtà di oggi, quindi va gestito. I cittadini sono preoccupati? Hanno una giusta preoccupazione perché ovviamente il momento è delicato, i vaccini sono iniziati ma ancora molti non sono vaccinati, quindi chiedono sicuramente controllo, sorveglianza, insomma vogliono uscire per le vie del paese in sicurezza e questo che deve essere assolutamente garantito. Siete riusciti a capire cosa è successo, com'è entrato il virus all'interno del centro? Ma lì pare che da come ci hanno detto al centro un paio di immigrati avessero contratto il virus e da lì vivendo in un'unica struttura poi si è propagato con una velocità incredibile. Oggi abbiamo questo numero di più di 20 immigrati che sono positivi.